Ciao a tutti, io penso che sia veramente, come dire, incredibile quello che sta succedendo in questi giorni. Mi riferisco evidentemente allo strappo del Movimento 5 Stelle nei confronti del governo Draghi. Strappo che in qualche modo era stato indirettamente annunciato dal precedente strappo di Di Maio nei confronti del suo partito. Se n'era andato, non si capiva bene per quale motivazione e aveva fondato un gruppo parlamentare suo, una specie di partito suo. Perché? Oggi ci dice che da mesi loro progettavano lo strappo istituzionale, progettavano di far cadere il governo. Ma veniamo con ordine. Draghi ha creato questo governo chiedendo però garanzie sul piano politico, dicendo io vengo a fare il Presidente del Consiglio e a fare tutte le riforme, a giocarmi in prestigio internazionale, eccetera, 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 però non voglio fare il conte, nel senso che non voglio fare quello ostaggio del partito X o del partito Y. Non voglio una maggioranza talmente vasta che anche se un intero partito, anche quello tra i più grandi, toglie la fiducia al mio governo, il mio governo rimane in piedi lo stesso. Cosa che infatti succederebbe, per inciso, se oggi il Movimento 5 Stelle smettesse di sostenere il governo Draghi. Comunque avrebbe un sostegno sufficiente. Ora, questo sistema ha funzionato finora un po' perché c'era la spinta dell'Europa, dicendo se li vuoi questi soldi, io voglio Draghi, a spenderli praticamente. È un po' perché appunto questo sistema si traduceva in una costante compensazione di tutte le fibrillazioni parlamentari, che pure ci sono. E ora però, diciamo che era chiaro che il gruppo, un partito che più di tutti aveva da perdere nel proseguire questa avventura di governo era il Movimento 5 Stelle, che è in caduta libera per quanto riguarda i sondaggi, o meglio, lo è stato. Adesso, dopo questo strappo, ha recuperato un miserabile 0,6%. Mamma mia, capolavoro politico. E quindi era chiaro che era quella l'anello debole della catena. Oltretutto, vi ricordo che il Movimento 5 Stelle è il primo partito d'Italia per quanto riguarda la presenza in Parlamento, cioè quello che ha più parlamentare di tutti, ha la maggioranza relativa, diciamo. Molto relativa, nel senso che... però è quello che ha più parlamentare. Ora, che significa questo strappo? Perché è stato fatto? Di preciso non si sa. Le motivazioni ufficiali sono. Noi non votriamo questo decreto legge aiuti perché siamo contrari al termo valorizzatori di Roma. Però appare a tutti una motivazione così blanda, voglio dire, avete votato di peggio. Tu, Conte, hai votato di peggio quando tu eri Presidente del Consiglio. A proposito di Conte, vorrei dire un paio di parole. Io sono veramente sorpreso in negativo da questo comportamento. Perché uno che è stato Presidente del Consiglio fino a qualche mese fa dovrebbe sapere bene quanto sono noiose queste tribunazioni parlamentari, spesso motivate dal fatto di stiamo perdendo nei sondaggi. Con le elezioni ancora lontanissime, ma adesso stiamo perdendo nei sondaggi, dobbiamo fare qualcosa. Facciamo cadere il governo. Così gli elettori saranno contenti. Noi diremo loro che era un governo di persone cattive, noi invece siamo buoni e ci voteranno. Conte per primo dovrebbe sapere perché ha subito questa stessa sorta e è stato fatto diciamo così cadere da Renzi. Non proprio perché in realtà lui la fiducia ce l'aveva, però appunto era una fiducia risicata, con cui non si poteva andare avanti e quindi ha incassato la fiducia ma comunque si è dimesso. Però in quel caso Mattarella ha accettato la dimissione. In questo caso la rifiutate e questo mi sembra interessante. Proprio Conte che ha subito questa situazione è quello che la fa. Chi la fa l'aspetti, chi l'ha aspettata adesso lo deve fare. Come dire, che delusione, che enorme delusione. Se così va avanti veramente il Movimento 5 Stelle ora come ora diventa un partito che non ha veramente più niente da dire. Che ha veramente concluso il suo scopo storico e adesso farebbe bene forse a chiudere i battenti o a trasformarsi in qualcos'altro perché così non va assolutamente da nessuna parte. A parte il discorso del termo valorizzatore. La cosa più curiosa però è che è interessante anche perché ci dà dei segnali su cosa potrebbe succedere mercoledì è che nessun ministro del Movimento 5 Stelle che sta nel governo sia ancora dimesso. Ne ha detto di volerlo fare. E lo stesso Movimento 5 Stelle, visto che si palesa mercoledì quanto pare ci sarà una verifica parlamentare, quindi il governo chiederà la fiducia, più di là di riterimento a questa o a quella norma. Dice, ma allora io ce l'ho la fiducia o non ce l'ho? Il governo chiederà la fiducia, il Movimento 5 Stelle non ha detto che non la voterà o che obiettora no. Quindi sembrerebbe che la voterà. E allora, scusa, che succede? Allora diciamo che si possono dare in questa situazione più chiavi interpretative. Ma prima di parlare della chiave interpretative mi sembra rilevante anche parlare un attimo di Draghi, della sua reazione. Lui si è incassato la fiducia perché chiaramente questa norma al Senato è passata, aveva 157 voti a favore e solo 39 contrari. Però poi è andato immediatamente a dimettersi, di missioni che sono state respinte da Mattarella, dicendo io non sono disposto a tollerare queste tipi di azioni. Perché? Probabilmente perché se io cedo adesso, a parte che non si è capito bene su che cosa doveva cedere, su che cosa non è stato condiscendente, non si sa. Se io cedo adesso, poi da qui in avanti tutti gli altri partiti della coalizione si sentiranno autorizzati a fare la stessa cosa. Che è un po', diciamo, l'atteggiamento che ha l'italiano medio nei confronti del governo. Il babbo. Babbo, mi compri questo? Babbo, mi compri quest'altro? Ah, non me lo compri? Allora sei cattivo. Solo che il figlio non può sfiduciare il babbo, mentre il Parlamento può sfiduciare il governo. Tra parentesi vorrei ricordare a quelli che ancora dicono che i Draghi non l'abbiano votato. In Italia i presidenti del Consiglio, cioè il capo del governo, non viene votato, viene nominato. E il confronto col Parlamento, cioè col popolo, diciamo così, con il rappresentante popolo, esiste, si chiama fiducia e deve essere costante. Quindi non è vero niente che i governi sono così calati all'alto. Solo perché tu non puoi illuderti di mettere una crocetta su un nome e poi quel nome diventa presidente del Consiglio non vuol dire che non ci sia una legittimazione popolare del governo. Quindi basta con queste stupidaggini. Se siete rimasti alla Repubblica di Weimar, aggiornatevi. Ok. Detto questo, scusate la polemica, ma non se ne può più. Ogni volta si sente sempre lo stesso analfapeda funzionale che deve dire sta stupidaggine. Draghi, dicevo, Draghi ha incassato in questi giorni un sostegno internazionale mai visto. Praticamente tutti gli Stati Uniti, la NATO, l'Unione Europea, i leader di importanti nazioni europee, hanno detto, ma che veramente ti dimetti? Ripensaci. No, 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 tu devi rimanere dove sei, non è che poi... no, 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 non scherziamo davvero, te rimani al governo, no, 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 calma. E d'altro canto, questa cosa è servita indirettamente a Draghi, che in qualche modo può dire, guarda, io non ho bisogno di parlare per dire chi sono, sono gli altri a parlare per me. Io mi dimetto, minaccio le dimissioni, tutto il mondo mi dice no, stai fermo. Chi altro, quale altro leader nel mondo può dire la stessa cosa? Ma secondo voi, quando si è rimesso Johnson, qualcuno ha detto no, ti prego ripensaci. Se si rimettesse Macron, qualcuno gli direbbe ti prego ripensaci. Se si rimettesse Scholz, qualcuno gli direbbe ripensaci. Se si rimettesse Biden, qualcuno gli direbbe ripensaci. No! Ci rendiamo conto dell'unicità di questo fatto? Rendiamoci conto. Vabbè. Quindi quali sono gli scenari? Ovviamente tirano fuori. Ovviamente Giuliano Amato, ma Giuliano Amato viene fuori sempre, semprissimo. Ogni volta che c'è un problema, la soluzione che poi non viene mai percorsa è sempre Giuliano Amato. Gli scenari possibili. Sì, dicono vabbè, facciamo un governo traghettatore fino alle elezioni, oppure un nuovo governo senza i 5 stelle, ma Draghi ha detto che non lo vuole fare un nuovo governo senza i 5 stelle e dice no. Perché, come dire, sarebbe un'altra volta una sconfitta, sarebbe un ammettere che effettivamente non siamo riusciti a riportare i 5 stelle a canossa. E lui vuole riportare i 5 stelle a canossa. Quindi, secondo me, anche se i giornali dicono il contrario, è abbastanza probabile che mercoledì, che ci sarà la verifica del governo, quanto ho capito, i 5 stelle voteranno e voteranno a favore del governo Draghi, quindi rimarranno al governo, formalmente. Però questo potrebbe non bastare a Draghi, che potrebbe dimettersi lo stesso. E, diciamo, la seconda volta, la seconda dimissione, probabilmente Mattarella non so se potrebbe respingerla. D'altro canto, anche Mattarella gioca un ruolo non indifferente, perché Mattarella può dire appena 6 mesi fa, voi mi avete letto a furor di popolo, siete venuti in ginocchio a pregarmi di tornare a Quirinale. Adesso faccio il comodo mio. Adesso, se io vi dico di fare una cosa, voi la fate. Quindi, il ruolo di Mattarella io non lo sottovaluterei, anche nel ricuscire lo strappo, perché il Presidente del Consiglio della Repubblica, pure questo, non è indifferente a queste dinamiche, anzi serve anche per questo. Quindi, secondo me, questo è lo scenario più probabile, che verrà ricuscito lo strappo, però non so che cosa farà Draghi allora, perché se si dimetterà lo stesso, potrebbe farlo. Allora vuol dire che c'è qualcosa sotto che bolle in pentola, che va ben oltre i decataiuti, che va ben oltre altre cose, che va ben oltre il, eh ma voi non ci state a sentire su questo e su quello, c'è qualcosa sotto di grave che non si sa. Ma può darsi pure di no, eh. Può darsi pure, anzi, 5 Stelle ci hanno abituato a fare le peggiori stupidaggini per dei motivi altrettanto stupidi. Quindi non mi meraviglierei che fosse veramente per quelle quattro cosine, o per un atteggiamento, oppure molto più banalmente per il desiderio di, come dire, di ruggire ogni tanto, per dire, resto, noi ci siamo e se vogliamo facciamo cadere il governo. Sì, forse, a parte che no, non lo fate cadere se il governo non vuole cadere, ma ammesso e non concesso. Questo potere ce l'avete da qui a febbraio, marzo, quando ci saranno le elezioni, voi col cavolo entrerete in un qualsiasi governo. no, è molto improbabile, diciamo. Anzi, anzi, a parità di legge elettorale, perché non credo che cambierà la legge elettorale di qui alle prossime elezioni, secondo me alle prossime elezioni si verificherà un'altra volta uno stallo messicano e, chi lo sa, forse si richiamerà Draghi un'altra volta, perché non vedo la possibilità di coalizioni che possano avere la maggioranza. La destra, anche se parla, non ce l'ha la maggioranza, perché i voti, la destra se li ruba tra di sé, ma non li sottrae le sinistre. La sinistra, pure, molto difficilmente riesce a compattare una maggioranza, specie con questi 5 stelle di turno. Quindi non lo so proprio, non lo so proprio cosa succederà, ma stiamo andando troppo in là, dobbiamo vedere più nell'immediato cosa succederà dopo mercoledì. Secondo me succederà quello che vi ho detto, voteranno la fiducia, daranno la fiducia, Draghi, forse spinto dalla pressione internazionale, deciderà di rimanere al governo, perché chiaramente anche lui lo fa anche, cioè, se lui si rimette dopo una fiducia incassata e dopo un, come dire, una fuga in avanti apparentemente riassorbita, non ci fa una bellissima figura, fa un po' la figura del Celestino V, insomma. Però potrebbe anche darsi, a quel punto penserei che c'è qualcos'altro sotto. Chi invece esulta alla idea di far cadere il governo Draghi, a parte la Meloni, che ovviamente dice andato al voto, al voto, al voto, al voto, al voto, perché in Italia purtroppo l'opposizione, il compito dell'opposizione è buttare all'aria il governo e andare al voto, dovrebbe vergognarsi che pensa una cosa del genere, che il compito dell'opposizione è buttare all'aria il governo e andare al voto, perché è proprio l'instabilità sistematica, cioè è bene che il sistema sia instabile, che i governi caschino ogni tre per due e questo lo chiamiamo democrazia italiana. No. Invece il contrario, guardate quante riforme sono state fatte, diverse dovevano essere vagliate, per esempio la riforma della giustizia non è stata ancora votata interamente e tante altre cose che devono essere votate, tanti altri punti del PNRR, tanti soldi che devono essere incassati, volatilizzati, come se niente fosse. Perché? Perché Conti ha deciso che il Movimento 5 Stelle sta perdendo troppi voti. Oppure c'è qualcosa sotto, che non so. Il governo traghettatore, ma certamente se Draghi si dimette è una necessità, non puoi far diversamente, perché dicono andiamo a elezioni il 25 settembre, la vedo molto dura, la vedo molto dura, è troppo rischioso votare il 25 settembre, perché significa che non hai tempo di fare una campagna elettorale e quindi nessun partito sa come andrà a finire. E l'impressione è che ci sarebbe un assenteismo senza precedenti, che ai partiti non piace mai, perché se nessuno ti vota puoi anche dire che sì, stai formalmente in maggioranza al governo, però non hai forza. e per quanto riguarda poi il governo stesso, diciamo che secondo me, forse sono ottimista, ma penso che ci sarà la fiducia, la otterrà, non credo che la voteranno contro. E Draghi rimarrà, rimarrà dov'è? Un po' coinciderà a qualcosa, un po' abbozzeranno i 5 Stelle e si andrà avanti. Secondo me, nonostante tutto, succederà questo, anche se vedo che i giornali sono molto pessimisti su questo, ma i giornali, si sa, sbagliano quasi sempre. Bene, io vi saluto, speriamo bene e vediamo come va a finire. Ciao a tutti!